Biglietti del bus introvabili, viaggiatori, in particolare gli anziani, che hanno meno dimestichezza con lo smartphone, costretti a comprare il ticket direttamente dall'autista, con la conseguente maggiorazione. Ieri il nostro servizio sui disagi per gli utenti di Preganziol, già oggi un primo intervento da parte di MOM, l'azienda unica di trasporto. Effettivamente abbiamo registrato delle difficoltà, ma già da oggi pomeriggio riusciamo a ripristinare il servizio e quindi ad avere una rivendita, un punto di rivendita che vicino alla chiesa si è riconvenzionata con noi. Nel frattempo le altre 3-4 rivendite che erano lì dubbioso, che stavano pensando, li abbiamo contattate e stiamo vedendo come superare questo problema e quindi ai cittadini, ai nostri clienti di Preganziol, superare la problematica. In ballo la diminuzione dell'agio per i rivenditori ex ACTT, dall'8 al 3% la proposta di MOM, ma la trattativa come detto è in corso. Intanto agli over 70, l'azienda di trasporto ricorda che possono usufruire di un abbonamento annuo a prezzo ridotto. C'è una convenzione con MOM e con il comune di Preganziola nello specifico che con 20 euro all'anno, ovvero 70 euro all'anno, loro possono girare tutto l'anno a seconda della loro fascia di ISE. Ma per chi volesse continuare a utilizzare i biglietti a livello provinciale, il problema dovrebbe risolversi definitivamente a giorni. Direttore, possiamo dire che per febbraio il problema dovrebbe essere risolto? Io sono ottimista, io penso già che per questo mese noi andremo a risolvere il problema con le associazioni di categorie, quindi ripeto, codi tabaccai che li incontriamo venerdì, ma così come anche per le edicole, quindi risolvere questo momento di fraintendimento che si è creato tra le parti. Grazie. 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 Grazie.